Procedono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano per l'anno 2022 nell'ambito dell'accordo quadro in città. Si susseguono infatti le ordinanze con le indicazioni sui divieti di sosta temporanei per permettere i lavori di scarifica e bitumatura. Da fine agosto fino ad ultimazione dei lavori, previste in otto giorni, era stato istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, in via Rampolla, via Dalmazia, via Le Trieste, tratto compreso tra il civico 197 e il civico 219, via Le Trieste, tratto compreso tra l'incrocio con la via Lamantia e l'incrocio con la via Luca Pignato, compresa la stradella interna che costeggia il recinto dell'istituto magistrale, via Mozart. Dal 7 settembre invece il divieto di sosta fino ad ultimazione dei lavori riguarda la via Savarese in ambo i lati e via De Amicis lato destro in direzione casa circondariale, tratto compreso tra l'incrocio con la strada di collegamento con la via Benedetto Croce e il civico 106 della via De Amicis. E mentre altre vie verranno interessate da interventi, si sta lavorando anche sul verde in città. La villa Medea è ancora chiusa per permettere la realizzazione dei lavori che riguardano sia il verde, l'aria giochi, fontana, pavimentazione e illuminazione. E intanto in alcune arterie sono già stati effettuati interventi su siepi, sparti traffico e anche potatura degli alberi. Dopo la via Paladini la manutenzione sta interessando altre zone come via Domminzoni, via Romita, via Ferdinando I e si pensa anche alle reverdi presenti nelle scuole e asili comunali.